Il metacolo è attuale, tocca a tutti i temi, l'amore, l'amicizia, il web, facebook, questi pollici alzati, questi like. Ci racconta anche di quando ci si lasciava con delle belle lettere d'amore, o ci si conquistava con delle belle lettere d'amore. Adesso ci si lascia o ci si conquista con come... E sono messaggini criptati che uno come me fa fatica a leggere. Devo dire che questi ragazzi sono nati con questi telefoni, noi no, e quindi il progresso così veloce gliel'abbiamo dato noi. E poi c'è la religione, c'è questo Dio che non si sa se c'è, se non c'è, gli uomini fanno la guerra nel suo nome, succede di tutto. E io pensavo che in quest'epoca non ci fossero più guerre, non ci fossero più cose di questo genere e sono molto preoccupato per la comunicazione che potranno avere tra di loro i miei pronipoti verso la società che frequenteranno fra cento anni, fra settant'anni. Per me no, io ormai non mi preoccupo più, però mi sto preoccupando anche per i ragazzi, spesso lavoro per loro.